Ciao a tutti, in questo video parliamo di un argomento che magari interessa quasi a nessuno, però a me personalmente dà molto fastidio, che sono appunto le legature. Si tratta di un qualcosa che ci portiamo dietro da veramente tanto tempo, almeno dal Medioevo, e non c'è solo in italiano, c'è anche in altri alfabeti, quindi non solo nell'alfabeto latino, che consiste appunto nel, diciamo, alcuni caratteri, quando si trovano vicini, creano un nuovo simbolo invece di rimanere due simboli distaccati. Qui appunto fa vedere un esempio che appunto già esisteva da molto tempo, e appunto per esempio FI diventa questo simbolo qui, e FL diventa quest'altro simbolo. È un argomento, diciamo, un po' controverso, ed è un po' fastidioso come i congiuntivi nella lingua italiana, è controverso come se appunto è accettabile per un vegano schiacciare le zanzare oppure no. Ma perché questo problema? Quando mi capita di scegliere dei font, appunto vado su Google Font, e inizio a scorrere questi font e dico, carini. Poi mi rendo conto che utilizzandoli nel mondo reale, non mi piace tanto come vengono renderizzati, e infatti all'inizio pensavo fosse un problema software. In realtà poi sono venuto a scoprire queste legature che in effetti personalmente mi danno veramente tanto fastidio. Qui metto una frase di prova, Il fiore, flora. Come vedete, ogni font reagisce un po' a modo suo. In alcuni casi la legatura viene applicata, diciamo, a entrambe le sillabe, in altri casi solo in uno, solo nell'altro, e in alcuni casi il risultato personalmente è veramente un qualcosa di veramente tanto fastidioso. E come vedete, Roboto, il font di Google, ha entrambe le legature. E poi, vabbè, c'è un altro problema che in alcuni font è difficile distinguere la I maiuscola dalla L. Anche quello, secondo me, è un problema abbastanza grosso. Però spesso le persone si concentrano solo sull'estetica del font e poco sulla praticità. Comunque, scrivendo questa frase di prova è possibile vedere un po' come si comportano i vari font. Per esempio, Open Sans è uno dei font che non fa le legature, in inglese è legature. E come vedete, le lettere rimangono differenziate. Invece, in molti altri font, come vedete, vengono unite e personalmente trovo veramente fastidioso leggere font che hanno le legature. Tra l'altro, è anche una di quelle funzionalità che non è possibile filtrare. Quindi, per forza di cose, dovete, diciamo, andarli a provare sul campo e vedere come si comportano. Come vedete, non c'è una regola. Ogni font, a discrezione di chi è che lo fa, può decidere di implementare la legature oppure no. Per esempio, questo è un altro font che non ha legature. Che dire? Cosa ne pensate dell'argomento? È un qualcosa che dà fastidio solo a me o dà fastidio anche a voi? E niente, questo era quanto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Vi saluto e ci vediamo in un altro video. Ciao a tutti!